Ciao a tutti ragazzi, io sono Next e benvenuti in questo nostro nuovo video, siamo qui su GMG, sono qui con Slam. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti. E oggi, cosa giochiamo? Siamo su Astray, questo gioco che ha il nome molto acro. Che stiamo appena andando a comprarlo, cioè dal trailer sembra. Noi in realtà l'hanno anche fatto, polizia, venite qua e arrestateli coi manganelli, pa pa pa. Noi ragazzi, speriamo che sia un gioco carino. Allora, facciamo un altro altro qualcosa e boh, vediamo. Speriamo che non laghi. Speriamo che non laghi, che sono i soliti di tutti i video. Prima, abbiamo detto tutti. Speriamo che jeppcio a tre giorni a ragazzi tutto qui lagga un pochino un po' tolva raga ho tanto di cappella no è storta la laggata potente allora per quanto lagherà ci proviamo allora vediamo un po' sembra carina guarda se raga lagga un pochino mi ha messo tutto al minimo perché vai per il momento perché il computer me lo rifaccio non posso prendere hai fatto una bianciata guarda ma cosa mi dice che dobbiamo entrare in questo cancello no non mi farò mai entrare minchia ma perchè uno non chiudo e non è un cancello così dai vai così cioè lui ha rotto casualmente ma che è una casualità pure lui non ci entra quali erano i tasti come hai fatto allora risalete e cupo abbastarsi infatti è cupo guarda che muoio no 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 ci penso io come spedono le sette spesi da dio ragazzi spesi libera te no 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 risma a base di ventangolo quadratica con l'altezza a scalare ecco direi l'elettricità in tutto il gioco no 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 siamo al buio allora io l'ho già giocato sto gioco va a cagare va va a cagare va a cagare va a cagare adesso l'ho già giocato vaffanculo l'ho già giocato? si si alla fine praticamente no 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 zitto zitto non dai parlami ti in culo se mi spoiler nella fine il personaggio muoè ah sono sti peggio tu cosa sei? bolt cutters e una volta che... ah è per tagliare la catena dove cazzo vai? perchè adesso puoi? perchè la pezzo è la cagare la bolt cutters perchè mi spari tutto il volume del gioco perchè io puoi dei magici? avevo uno schiatto se c'è qualcuno me voglio la bolt cutters ce la puoi fare? siamo nel 1908 I will go out and eat them away bella bella addio che dita che cagare è un coglione riattivi la luce addio 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 che c'era la luce era come gli occhi chiusi eh è il museo egizio ma sei un genio ma non sei un genio ma non sei un genio e voi la so già la storia tanto si si secondo me non c'è un genio deficiente a trocare le tre chiavi no 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 ho visto qualcuno dietro ma è il museo di una volta al museo? no è semplice oh cazzo guardate i bassi no figata guardate queste cose che mi cago dove era la scatola? capisci l'italiano? accendi la torcia eccola non ci posso andare come ho fatto da passarlo? eh questo muoio non mi piace non so bene adesso devi correre come ho fatto da andare io non so se dovevo lì no fa un coglione eh ahahah 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 non fa luce non ci vado mi ha fatto vedere cosa c'è qua sotto cos'è che c'è? cos'è questo dal posto? toglie la luce si vede eh federico co ah eh scusa qui c'era la combinazione eh ok ragazzi abbiamo fatto è 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 cosi noi diciamo non è un altro rompi capo vero vado a essere sopra non è l'interno di una vagina si è qua di tua madre sali accendiamo la luce qui dentro c'è una porta è un enigma che va dritto di qua fatto mamma raga è degno di rispetto mamma mia che uomo faccio cambio di posto è degno di rispetto lasciato il like ah si ha lagato e una volta che si ha lagato ah capito tu non hai capito un cazzo di qua ecco ti sei pure entrato l'uomo devi guardare ogni minimo dettaglio di questo sono tutti tutto devi guardare no è una nave è una barca che è bloccata perché devi mettere codici non mettere codici 0 3 0 3 n ci buttiamo? si vai ci saranno i numeri 0 3 0 3 0 3 n c'erano solo 4 numeri c'erano solo 4 numeri 0 3 n e 18 e 18 e 18 allora 0 0 3 1 e 8 200 che cazzo ah ma al contrario ok 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 ragazzi vi lasciamo con la sua spazza stiamo finendo di fare la seconda chiave dobbiamo andare per la terza ragazzi è lunga ci sarà anche un po' di tagli da fare comunque adesso noi siamo registrato sabato sera che è il 5 oggi no? si è il 5 che abbiamo comprato riprenderemo domani che è domenica 6 io sono Next lui è Slemi ti lascia un mi piace un commento spero che il video vi sia piaciuto ragazzi io come sai vi lascia un mi piace un commento dovremo anche noi aspettare cioè vi rendete conto noi non potremo premere quel cazzo di bottone e andare a vedere dove cazzo ci porta ah 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 rinculateci sempre ragazzi vedeteci qualche critica costruttiva o qualcosa anche perchè in Italia nessuno l'ha fatto da quello che ho visto io sono Next bella ragazzi bella